Ciao Elena, una gran gioia averti con noi qui ad Amsterdam a Wine Professional 2020 e mi chiedo, tu è la prima volta che vieni a questa manifestazione o no? Sì, è la prima volta. Pensi che sia stata, abbia risposto alle tue aspettative o ti aspettavi di più o c'era qualche cosa secondo te che era diverso? Allora, io sono stata molto contenta e soddisfatta di partecipare a questa fiera. In effetti sì, è la prima volta che partecipavamo come azienda a questa manifestazione. Noi abbiamo degli importatori in Olanda ma abbiamo sempre appunto lavorato direttamente con loro. Infatti questa fiera è un'opportunità molto interessante per presentare anche agli operatori del settore, proprio ai ristoratori, quelle che sono le nostre realtà, le espressioni del nostro territorio. E quindi è anche un modo per supportare gli importatori, non solamente nella loro sede ma anche una vetrina molto interessante da questo punto di vista. Quindi sono contenta. Pensi che potrai ritornare a una cosa come questa? Il tuo importatore ti appoggerà in questa tua scelta? Ecco, noi vogliamo parlarne approfonditamente, però penso proprio che anche lui sarà soddisfatto e contento se noi impieghiamo le nostre energie in uno stato interessante come l'Olanda che ama il vino italiano e che ha voglia di conoscerlo sempre meglio. Benissimo, grazie ancora. A presto.